Assessore Amante si torna a parlare di bollettazione del canone idrico. Nei giorni scorsi in Consiglio Comunale c'è stato un ampio dibattito tra opposizione e maggioranza, chiarimenti da parte del sindaco Messina e soprattutto il fatto che lei non ha la delega all'Acquedotto. Lei voleva chiarire anche questo punto e tutto l'iter che sta seguendo l'amministrazione per chiarire questo grosso problema che si trascina da mesi. Sì, innanzitutto in premessa volevo chiarire che non ho avuto mai la delega all'Acquedotto e ai servizi idrici, ma come Assessore al bilancio assieme al sindaco nei giorni scorsi, considerato un notevole afflusso di cittadini che si recavano presso l'ufficio Acquedotto, abbiamo inviato una missiva al responsabile dell'ufficio Acquedotto per avere dei chiarimenti in ordine a questa situazione di disagio che si è venuta a creare con riferimento alla bollettazione per l'anno 2016. Il tutto a fine di valutare quelle che sono eventuali responsabilità ed eventuale intentare, qualora ce ne fossero appunto i presupposti, un'azione legale nei confronti della ditta che ha avuto l'incarico per la bollettazione del relativo acconto delle fatture dell'Acquedotto per l'anno 2016. L'opposizione, il consigliere Calterbiano in particolare, chiedeva all'amministrazione, soprattutto all'assessore che aveva delega all'Acquedotto, di dimettersi. Ritengo che non si risolvano il problema con le dimissioni, occorre piuttosto agire, vedere dove sono i problemi e intervenire in maniera tempestiva per dare risposta alla cittadinanza e per cercare di alleviare quelli che sono appunto questi disagi. L'opposizione ancora rimproverava l'amministrazione di non avere tenuto in considerazione le direttive date dal Consiglio Comunale su questo problema. Così di fatto posso dire non è perché su alcuni punti sono state tenute in considerazione le direttive formulate da parte del Consiglio Comunale, in particolare con la questione della georeferenzazione, è stata fatta la georeferenzazione, in particolare appunto con le letture, e quindi con delle letture che vengono prese ad un periodo inferiore, quindi periodicamente. Un altro aspetto sicuramente importante è stato fatto un atto di indirizzo da parte della Giunta, con la quale è stato formulato un invito al responsabile appunto del servizio Acquedotto, di rivedere quello che è il piano tariffario entro il mese di novembre di quest'anno. Quindi gli utenti che hanno ricevuto la bolletta, particolarmente Soso, o più bollette, ci sono appunto utenti che dicono di aver ricevuto più bollette, che cosa devono fare? Gli uffici del Comune sono a disposizione e di questo il lodevole impegno da parte del personale dell'ufficio Acquedotto per dare quelli che sono i opportuni chiarimenti ed eventualmente qualora ce ne fossero i presupposti per procedere con le rettifiche appunto delle bollette che sono state emesse.